Ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale tv siti. In apertura l'emergenza sanitaria in Campania, i contagi continuano a scendere mentre i guariti aumentano giorno dopo giorno. Il parroco della Basilica di Santa Croce, Don Gesù del Lombardo, ha lasciato un importante messaggio ai fedeli in occasione delle celebrazioni pasquali. E parliamo ora di fondi per le periferie delle città. L'onorevole Luigi Gallo ha spiegato come potrebbero essere investiti dal Comune di Torre del Greco. Ed è ancora polemica invece per i marittimi e per i corsi che non vengono svolti a causa dell'emergenza Covid in Campania, mentre in altre regioni sono consentite la protesta di Vincenzo Accardo. In conclusione passiamo agli scavi di Pompei con l'iniziativa volta a educare i bambini sull'importanza del lavoro dell'archeologo, ospite di eccezione il topo giornalista Geronimo Stilton. Questo ed altro nei nostri servizi. Positivi in calo, boom di guariti nel Vesuviano. Trend di contagio in costante calo per la regione Campania. Da giorni ormai i nuovi positivi tendono a diminuire, mentre i guariti aumentano. Solo ieri oltre 3.000 cittadini hanno sconfitto il Covid, a fronte di circa 2.000 nuovi contagiati, una tendenza che si riscontra anche nei singoli comuni. Da inizio settimana sono più di un centinaio i cittadini di Torre del Greco guariti. I nuovi positivi restano sempre troppi, ma con numeri decisamente inferiori rispetto ai picchi delle scorse settimane. Stesso trend per Torre Annunziata, dove, solo oggi, sono solo 5 i nuovi casi di contagio su 118 tamponi processati. Al contempo si registrano anche 14 guarigioni. Tra i cittadini che hanno sconfitto il Covid, anche il primo cittadino, Vincenzo Ascione. Scendono a 239 gli attualmente positivi. A Castellammare sono 19 i cittadini positivi al coronavirus, su 276 tamponi lavorati. Alto il numero di guariti, con 67 stabiesi, che hanno sconfitto il virus. Don Giosuè Lombardo, siamo all'altare della Reposizione, oggi giovedì santo. Come la comunità si prepara a vivere le celebrazioni del Triduo Pasquale? Ecco, per la comunità il Triduo Pasquale è il punto di arrivo di un cammino quaresimale, perché la celebrazione della Pasqua non si può improvvisare. Si possono improvvisare i dolci della Pasqua, ma non la celebrazione e lo spirito della Pasqua. E anche questo albero che è qui fiorito è il segno di un cammino che siamo riusciti, nonostante tutto, a realizzare insieme ai ragazzi e ai giovani della parroccia. Pian piano, pian piano, durante la Quaresima è fiorito e adesso è qui nella sua pienezza. È un albero che fiorisce, è proprio segno di speranza. Sembrava morto, senza vita, stecchito, senza respiro e poi con il sole di primavera vengono i germogli. E così è la Pasqua. Sembrava tutto finito in un sepolcro, ma lì stava per esplodere per sempre la vita. Una Pasqua di speranza e di consolazione, tornando all'essenziale. È il senso del messaggio alla comunità del parrogo della Basilica di Santa Croce, Don Giosuè Lombardo. Ma la Pasqua non è una speranza a buon mercato. La Pasqua ci impegna e la Pasqua ci coinvolge nel mistero della passione della croce per arrivare alla gloria. Come diceva un autore contemporaneo, molti cristiani vorrebbero un Cristo senza croce, ma si ritrovano a vivere una croce senza Cristo, cioè senza l'accoglienza di Gesù, senza un incontro personale con Lui. Ecco, tutta la realtà diventa pesante. La comunità questa sera si raduna per la messa della cena del Signore. Anche quest'anno non ci sarà il segno della lavanda dei piedi, però io dico c'è il segno della comunità, ridotta a 200 persone. Sì, ridotta, ma c'è il segno della comunità, c'è il segno dell'incontro e poi potremmo anche incontrare Gesù nell'adorazione dell'Eucarestia. Il venerdì santo, lo sappiamo, è il giorno della passione del Signore. Noi celebreremo alle 18 e 30 con la comunità e meno male. E poi la veglia pasquale con tutti i segni, il fuoco, l'acqua, il canto dell'alleluia alle 19 e 30. Un'altra Pasqua in piena emergenza sanitaria. Un messaggio rivolto a tutti i cittadini, agli anziani e ai malati. Una riflessione profonda che parte dal significato del triduo pasquale, punto d'arrivo del cammino quaresimale. Qual è il messaggio della Pasqua di quest'anno? È un'espressione che Papa Francesco ha detto un po' di tempo fa, forse proprio lo scorso anno. C'è qualcosa di peggiore di questa pandemia. Non imparare nulla dalla pandemia, cioè pensare di ritornare a una vita come era prima. Invece noi dovremmo ritornare, e qui il condizionale d'obbligo, dovremmo ritornare a una vita migliore, più incarnata, più essenziale, che va al cuore e al nocciole delle questioni grosse della vita. Ma è anche una Pasqua di grande speranza e di consolazione. Ecco, profitto proprio per gli auguri, vorrei dirlo a ognuno, soprattutto dei nostri anziani, di chi vive ancora la quarantena, degli infermi che sono in casa. Ecco, lo vorrei dire proprio guardandovi negli occhi. Il Signore è risorto, è veramente risorto e con Lui anche noi possiamo risorgere ogni giorno e prolungare la luce, la vita della Pasqua nel nostro feriale. Contributi in arrivo per i comuni, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana finalizzati a contrastare il degrado e a riqualificare le periferie. Ne abbiamo parlato con il deputato del Movimento 5 Stelle, Luigi Gallo. Abbiamo 8,5 miliardi in questo momento stanziati per i comuni per i progetti di riqualificazione urbana. Che cosa significa? Ricordiamo che in questo momento soffrono tutti, soffrono le attività sportive, soffrono anche le attività commerciali, attività produttive, ma soffrono anche attività sportive, attività culturali. E questi progetti, 8,5 miliardi, servono per costruire spazi sportivi, spazi culturali e così potrebbero crearsi dei luoghi capaci di ospitare oggi tutte le associazioni culturali o associazioni sportive che sono in difficoltà e devono ripartire. Ma non è l'unica misura. In questi 8,5 miliardi voglio ricordare che c'è spazio anche per la riqualificazione di luoghi degradati. Pensate a Torre del Greco, la passeggiata sul porto potrebbe essere un punto che può essere riqualificato, come l'area giostre, l'area sportiva è all'aperto. Quindi c'è grande possibilità di poter riqualificare il proprio territorio e creare spazi utili anche all'economia. Ci vuole la cabina di progetto seria che il Comune attiva o tutte le risorse necessarie per fare in modo di non perdere nessuna occasione. Sono misure di interventi fortemente voluti dal Movimento 5 Stelle? Sì, sono misure che parlano di rigenerazione urbana, di disuguaglianze periferie e anche riqualificazione. Noi in questo momento siamo molto impegnati alla transizione ecologica e alle disuguaglianze di questo Paese. Quindi pensiamo che si riparte risolvendo il problema delle disuguaglianze e si riparte con la nuova economia con cui aiutare le imprese che in questo momento sono in difficoltà per metterli di nuovo in campo con supporti digitali, con supporti in ambito ecologico, green. È un momento complesso ma allo stesso tempo tamponiamo, ci sarà un nuovo scostamento anche dopo questi 32 miliardi e ci saranno misure che in queste settimane proporremo anche di miglioramento del decreto dal Parlamento per i ristoratori, per gli affitti e quindi tutto questo è un impegno continuo e concreto. Vincenzo Accardo, Presidente dell'Associazione Marittimi per il Futuro, restano le criticità per i marittimi che devono effettuare i corsi di nuoto e voga per i marittimi di Torre del Greco, di Ercolano e della Campania. Mentre invece a Genova c'è la possibilità di effettuare questi corsi? C'è la possibilità di effettuare questi corsi a Genova che abbiamo avuto un'e-mail domani devo richiamare e prenoterò tutte le 200 ragazze che devono fare questi corsi del nuoto e voga. Il corso nuoto e voga significa che ogni marittimo che si sta facendo all'immatricolazione del libretto nuovo deve fare prima il nuoto e voga che poi questo nuoto e voga non si dovrebbe fare più perché non esiste più quelle zattere o il sciop di sabataggio che andavamo a prima. Oggi ci sono i motori ed è tutta una cosa che è burocrata e roba del 44. Però bisogna fare un nuoto e voga per avere l'immatricolazione nuova. Cosa è successo? Covid. Noi siamo da ottobre qui tutto fermo nelle piscine e tutto però dei corsi di formazione come ben vediamo esistono ancora. Li stanno facendo. Significa che vanno nelle piscine, vanno a girare le zatte però non possono fare il nuoto e voga perché sono privati. Perché la possono fare il nuoto e voga? Allora cosa sto facendo io? Sto organizzando tutti i ragazzi e faccio l'appello all'istituzione, il sindaco Giovanni Paloma, il sindaco di Ercolano Cino Bonaiuti, il sindaco anche Cuomo di Portici di darci una trentina di pulma per andare a Genova e portare questi ragazzi a fare il nuoto e voga. Allora noi appello all'istituzione, fate qualcosa di concreto perché vedo che tutti quanti, la capa di di Porti dice io non so niente, parlo con quelli lì, io non so niente, cerchiamo la politica regionale, ma sono stati tutti quanti, stanno immagati, ma scusate, chi è che deve fare qualcosa e deve dare una mano a questi lavoratori? Io ho visto stamattina però un messaggio, ho avuto Whatsapp dal Gallo Luigi che già hanno mandato una lettera all'istituzione a Roma per vedere un po' la situazione. Ti ringrazio del pensiero, meno male che c'è stato qualcuno che ha detto qualcosa, ma aspetta gli altri. Oh, quando fate le campagne l'ho tralzato tutti i giorni fuori all'associazione, sotto le case persone, non potete fare qualcosa oggi. La crisi è forte e il Lidere è ancora lungo. È tantissimo lungo, voi dovete vedere ancora oggi, MSC, Costa Croce, migliaia e migliaia, ogni nave di questi qua portano 1400 lavoratori a bordo, sono tutti fermi e stanno tutti a casa. Ma io vi faccio un'altra domanda, una provocazione. Ma scusate, siccome che noi qua in Italia stanno navigando tutti i traghetti senza passeggeri, perché sono codice rossa, la Sardegna voglia una vaccinazione per entrare, non si portano passeggeri e le tabelle sono ridotte, i marittimi non imbarcano. Ma scusate, qual è la miglior cosa che è ora che partiranno queste navi da crocire? Nessuno ha fatto fare dei corsi di formazione. Allora qual è il momento opportuno di imbarcare marittimi italiani su queste navi? Questo è il problema. Allora risolviamo il problema non devo e risolviamo quello che le persone devono mangiare, perché qua si pensa che gli uffici di collocamenti, chi li farà le chiamate di collocamenti a questi ragazzi? Perché non esistono, perché pure questo ci sta. Io spero che all'istituzione faccia subito qualcosa, che da domani faremo tutte le domandine del Notavoco a Genova e vediamo chi è che le deve portare, perché qualcuno deve portare e non spendere qualcosa di soldi. Io spero che qualcuno si faccia un esame di coscienza, svegli che è Pasqua, fate qualcosa di importante alla soluzione del Signore, mettete anche qualcosa di soldi per portare questi lavoratori a Genova, cercare poi troveranno un lavoro. Continua il viaggio di Geronimo Stilton, il topo giornalista più amato ai bambini di tutto il mondo, alla scoperta dei segreti del mondo archeologico dal sito di Pompei. Geronimo, dopo aver raccontato in alcuni video le bellezze dei siti vesuviani, svela questa volta i segreti e il mestiere degli archeologi, intervistando direttamente chi opera sul campo a stretto contatto con le meraviglie emerse dalla cenere e dai lapilli del Vesuvio, che coprirono l'antica città di Pompei duemila anni fa e approfondendo il lavoro dei restauratori, che intervengono in sito o in laboratorio sui reperti, gli oggetti e gli affreschi ritrovati durante gli scavi. Un video con duplice intervista a un archeologa e una restauratrice del parco, a cui il direttore dell'Ecoerroditore rivolgerà le domande per i più piccoli, per comprendere il grande lavoro affidato ai professionisti dell'archeologia. Dallo scavo vero e proprio, con la rimozione dei singoli strati di terra, come sfogliare una cipolla in cucina, al rinvenimento dei reperti, al loro studio e contestualizzazione, che aiutano a comprenderne la storia, l'attività e la vita quotidiana di una certa epoca, fino all'inventario e alla conservazione degli oggetti rinvenuti. E poi il successivo delicato intervento dei cosiddetti dottori delle opere d'arte, che con grande pazienza devono rimettere assieme frammenti preziosi, restaurarli e riportarli al loro originario splendore. Geronimo Stilton, protagonista di tanti libri apprezzati ai giovani lettori, è già stato testimonial d'eccezione di un progetto per il sito UNESCO Pompei Ercolano Torreannunziata, rivolto ai giovani cittadini e al territorio, in collaborazione con l'osservatorio permanente del Centro Storico in Napoli, sito UNESCO, che ha avuto come obiettivo quello di aumentare la consapevolezza e la sensibilità dei più giovani nei confronti del patrimonio culturale mondiale. A proposito di scavi, sono molto curioso. Come funzionano e che cosa fate quando trovate i reperti antichi? Il bello dello scavo, infatti, è che ogni volta è sempre una sorpresa. E scavare è un po' veramente come in cucina quando lavoriamo con la cipolla, perché il nostro lavoro consiste nel rimuovere gli strati di terra, gli strati che vengono chiamati in dettaglio unità stratigrafica. Ogni strato di terra ci racconta un'attività del passato. Dallo strato di terra capiamo se abbiamo una pavimentazione, un deposito, un deposito di rifiuti. Quindi, veramente, sfogliando la terra riusciamo a ricostruire tutte le attività e scendiamo sempre più in fondo fino ad arrivare a quello che noi chiamiamo lo strato naturale, cioè lo strato più antico, il palosuolo, dove non c'è traccia dell'attività umana. Ciao, io mi chiamo Elena e sono una restauratrice qui a Pompei, per cui lavoro sempre in stretto contatto con gli archeologi. Il nostro compito principale è quello di prenderci cura dei reperti che provengono dallo scavo. In che modo? Prima di tutto li puliamo dal terreno e dai depositi di scavo piano piano, perché dobbiamo immaginarci quasi come una persona che viene svestita improvvisamente o qualcuno che passa dal caldo al freddo all'improvviso. Quindi via via rimuoviamo i depositi di terreno, prima con il pennello e poi con delle soluzioni a tamponcino e sempre facendo molta molta attenzione. Infatti, non so se lo sapete, si dice sempre che noi restauratori siamo i dottori delle opere d'arte e si dice anche che noi dobbiamo avere tanta tanta pazienza. Difatti, per restaurare un piccolo frammento ci vogliono diversi giorni e tante fasi e tra una fase e un'altra bisogna anche aspettare del tempo. Grazie per la cortesa attenzione. Per info e segnalazioni potete contattarci alla mail redazione chiocciolatvcity.it o al numero di telefono 340 6561 484. E con questo è veramente tutto. Io vi do l'appuntamento a domani con altri servizi. Grazie a tutti.